Io da ministro non amo commentare né requisitorie né sentenze, credo che sia corretto non farlo. Fino al terzo grado di giudizio nel nostro paese siamo innocenti, sono certa che Berlusconi lo dimostrerà. Siamo abituati ai processi mediatici rispetto a Silvio Berlusconi. Questo mi sembra l'ennesimo processo mediatico per destabilizzare il clima che oggi si sta creando in Italia. Ricordo che se noi siamo al governo lo siamo grazie a Silvio Berlusconi che ha dato sostegno a questo governo, lo vuole fortemente, non nell'interesse nostro e del nostro partito, perché i sondaggi ci direbbero che il nostro interesse è tornare al voto, nell'interesse del paese e della stabilità del paese. Ci sono famiglie in grandi difficoltà, ci sono imprese che chiudono, gli eventi degli ultimi periodi ci danno molto allarme. Berlusconi è consapevole di questo, non saranno iodi personali, chiamiamoli così, o le costruzioni giuridiche ad arte o giudiziare a fermare la sua opera di pacificazione del paese.